Serve aiuto per la macchina? Lea Castelli Arturo Minelva Torni a casa o vieni per la prima volta a Ferrara? Torno a casa per ricominciare Torna dopo un periodo difficile Cerchiamo di darle una mano Eccola! Era un ottavo mese di gravidanza Il mio bambino aveva perso il battito cardia Marco si è buttato alle braccia di una mia amica Chi ci fa qui? Ma chi è? È l'ex marito Se ti mi hanno offerto un posto da primario Mi è bastato vederlo per sentirmi il punto di partenza Lea Ma sciagli il tuo nome Anche il mio Tu non rinuncia mai Per nessuna ragione al mondo Se solo tu mi potessi perdonare Vai a casa da Anna In prima visione Lea, un nuovo giorno Da martedì 8 febbraio 21 e 25 Rai 1